Presentazioni di libri, escursioni e soprattutto far conoscere la storia di Tortora. La stagione estiva sta per entrare nel vivo e l'amministrazione comunale ha deciso di puntare sul centro storico, almeno per quanto riguarda gli appuntamenti culturali. Ma per fare questo la promozione partirà dal mare, dalla marina, dove il flusso turistico si concentra. Nelle prossime iniziative che faremo ci saranno diversi incontri, sia presentazioni di libri ma anche attività musicali e culturali. Installeremo sul lungomare di Tortora un box informazioni dedicato solo al museo, dove saranno presenti delle guide che accompagneranno attraverso la navetta gratuita le persone al centro storico, i turisti, che potranno quindi visitare sia tutto il centro storico, tutti i monumenti e oltre al museo di Blanda. Dalla sede comunale fanno sapere che le visite presso il museo potranno essere prenotate l'amministrazione, quindi vuole fare sul serio e metta al centro il borgo antico, fin troppo dimenticato e maltrattato. Un ulteriore passo dell'amministrazione comunale che tende a puntare tutto su quello che il nostro territorio può offrire, su quella che è stata la città di Tortora, su quello che è stata Blanda. Non a caso il nostro slogan è appunto alle porte della cultura, proprio perché Tortora tenderà ad incentrare tutto il suo turismo, oltre che ovviamente al mare, anche e soprattutto al centro storico e alle bellezze culturali.